buongiorno amici montanari buongiorno allora dove ci troviamo oggi appena partiti dal parcheggio della val fiscalina ci dirigiamo verso le tre cime perché andremo a pernottare proprio lì il programma prevede di pernottare vicino al rifugio lavaredo vediamo come va la giornata è stupenda e sono in compagnia di un po di amici qui abbiamo Matteo lo conoscete avete già visto sicuramente i suoi video vi lascio il suo canale in descrizione poi c'è simone di me ivan e emanuele bene io vi lascio al video e noi ci vediamo lungo il percorso a dopo ciao ciao Grazie a tutti. 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 Ci vediamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. qui, lungo. a tutti. e a tutti. a tutti. da qui. a tutti. a tutti.